Come fare questo disegno nuovo? Prima scaricate questi giochi che poi vi fanno fare i personaggi di colore e poi scaricate quel gioco per fare colorare i personaggi nuovi. E si chiama Color. Questo, aspetta, lo disegno così. Avete capito ora? Da questo gioco si possono disegnare e poi dovete schiacciare lì per mandarlo su Minecraft da questi giochi. Allora dovete schiacciare lì e poi si manda. E guardate com'è. Si possono fare tanti personaggi qui, belli, belli. E se ne vuoi puoi disegnare, forse non lo so, io ora ci devo provare a questo gioco. E poi vi faccio vedere come gioca questo gioco. Avete capito ora? Qui si schiaccia dove ci sono tanti personaggi. E là ci sono tante foto. Puoi schiacciare, ma però no quelli, le foto, quelli di Anna, quelli no. Devi schiacciare quelli dove tu li hai mandati già. Avete capito questo gioco? Questo gioco è di Minecraft. Scaricatelo pure voi se volete o no. Avete capito questo gioco? Questo gioco è di Minecraft. Grazie a tutti.